L'ascensore non funziona e noi pazienti dializzati dobbiamo fare un percorso più lungo e dobbiamo costeggiare l'area covid all'interno del San Donato. La segnalazione ci arriva da un paziente a rettino che due volte a settimana deve recarsi all'ospedale San Donato di Arezzo per la dialisi. Gli ascensori sono due, a quanto pare uno dei due è spesso fuori uso, alcune volte entrambi. L'accesso per i pazienti dializzati ci spiega e dal piano zero della quinta scala antincendio. Quando entrambi gli ascensori sono fuori servizio dobbiamo effettuare un percorso attraverso alcuni corridoi dell'ospedale per arrivare al luogo dove si svolge la terapia. Passiamo anche in un corridoio adiacente all'area covid. Certo non attraversiamo l'area di degenza ci spiega ma se un paziente covid deve uscire dall'area a lui dedicata fa il nostro stesso corridoio. La ASL Toscana Sud-Est contattata dalla nostra redazione risponde che assolutamente non c'è promiscuità tra i percorsi covid e non covid. Ogni volta ci assicurano che un paziente covid esce e deve percorrere un corridoio questo viene immediatamente sanificato quindi nessun pericolo e massima cautela. Sul disservizio degli ascensori l'azienda conferma che gli interventi di manutenzione sono frequenti e sarebbero dovuti al fatto che gli ascensori sono utilizzati da un numero importante di pazienti. Insomma un disagio non da poco per i pazienti che già vivono una condizione di fragilità soprattutto per coloro che non si muovono bene che devono affrontare scale e corridoi. Ad ogni modo conferma la ASL non tutti i giorni c'è questo disservizio.